Un filo conduttore lega a Grigento a Messina, tutto parte da una tesi di laurea di una sua alunna? Sì, parte proprio dalla tesi di laurea di Adriana che abitando in questo territorio abbiamo avuto per lei l'idea di farle analizzare un po' questo territorio e con una piacevolissima sorpresa abbiamo visto che il litorale di San Leone è ricco di specie rare a rischio di estensione e di estremo interesse. Ma soprattutto abbiamo scoperto queste dune bellissime che ormai sono territori, aree abbastanza rare in Sicilia. Le dune sono estremamente importanti perché sono ormai habitat rarissimi e qui ad Agrigento, qui nella zona di San Leone, sono conservati ancora bene. C'è un patrimonio assolutamente prezioso con piante rare come la retama per esempio che è una ginestra a fiori bianchi bellissima che ormai non si trova quasi in nessun luogo. E così tante altre specie. Ma la cosa più interessante sono questi habitat, che sono habitat prioritarli in cui la comunità europea invita a proteggere e tutelare. La scoperta è tua, tu sei una favarese che ha studiato a Messina e ha fatto appunto questa tesi di laurea sperimentale. La mia tesi ha voluto portare alla luce queste scoperte di questi habitat abbastanza importanti, abbastanza fragili e dal punto di vista floristico che è abbastanza rilevante nel nostro territorio. Appunto il territorio di San Leone presenta una vasta gamma di habitat unici e specie psammofile abbastanza rare e protette. E la mia tesi appunto si è concentrata in particolare su quattro specie, di cui una era stata addirittura dichiarata estinta nel 1997. Appunto il mio progetto, il mio compito è portare alla conservazione di queste dune. Il messaggio che oggi vogliamo lanciare è semplicemente quello nei confronti dell'amministrazione di non andare a fare la pulizia con mezzi meccanici. La duna va pulita ma a mano e eventualmente i mezzi meccanici possono essere utilizzati soltanto per il bagnasciuga. La duna deve essere tutelata e ora abbiamo un motivo in più per tutelarla. Grazie a tutti.